ciao a tutti io sono Deborah e quello che vi propongo oggi è un piccolo allenamento per il muscolo dell'opsoas fondamentale per un corretto allineamento della postura nella danza classica quello che vi chiedo è di seguirmi mentre andiamo a fare questo allenamento con la musica partiamo in posizione di quadrupedia porto un piede tra le mani mentre la gamba dietro ha il piede appoggiato a terra e cerco di spingere in avanti il mio bacino resti in questa posizione cercando il più possibile di allungare il mio bacino verso la gamba davanti torno indietro cambio gamba sempre la gamba tra le mani e allungo spingo il bacino verso il basso cercando di allungare la mia schiena adesso punto sulla mezza punta del piede dietro allungo la gamba e porto le mie mani sulla gamba davanti spingo in avanti il più possibile il bacino adesso attenzione a mantenere la schiena l'allungo la gamba e allungo la gamba scendo con le mani abbasso le ginocchia e cambio il piede spingo e allungo passo le mani torno indietro porto un ginocchio piegato davanti e mi siedo la gamba dietro è lunga se se riuscite spingete per toccare terra se non riuscite appoggiatevi sulle mani e intanto cercate di spingere il più possibile schiena sempre dritta spingere il bacino torno su cambio cambio allungo ruppo tenete bene l'allineamento dei fianchi Entrambe le arche devono essere rivolte verso il pavimento E salgo Torno in posizione di patopedia Mi alzo Bacina in dentro Schiena dritta Braccia in su E vado indietro cercando di fuccare i miei talloni Rissalgo Ora Non stendo a terra la pancia in su Schiena lunga Piego un ginocchio E lo porto delicatamente verso la mia pancia Manteniamo anche qui i fianchi ben a terra Giù Cambio Giù Ok Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao